Le tradizioni folcloristiche più vere della Romania hanno caratterizzato l'evento organizzato a Torino dal Centro di Cultura e Tradizioni Romena con il patrocinio del Consiglio Regionale del Piemonte. Si è trattato della riscoperta dell'identità dei popoli, primo passo indispensabile per una vera integrazione. Il centro è particolarmente attivo da anni nella città di Torino, anche in campo sociale ed educativo per il recupero dei minori afflitti da problematiche caratteriali e di inserimento.